Le sedi provinciali abruzzesi della Lilt, la Lega Italiana per la lotta contro i tumori, organizzano da domani, al prossimo 9 giugno, secondo modalità e calendari differenti, visite gratuite per prevenire i tumori cutanei e in particolare il melanoma. Le visite potranno essere effettuate nelle sedi provinciali dell'Associazione a Pescara, L'Aquila, Vezzano e Teramo e al distretto sanitario di base di Francavilla al Mare. Tutte le info sui recapiti delle sedi sono su lilt.it nella sezione La Lilt in Italia.